Nella giornata mondiale che celebra un dato importante, quello della violenza sulle donne, c'è Yuskustando che crea un evento contro questa tendenza, ormai ampiamente diffusa. L'evento è Cucinare in Rosso. Noi oggi faremo una carrellata di interventi importanti su un tema ormai dilagante anche attraverso i mezzi di comunicazione. Un problema grande, ma qual è il limite della comunicazione odierna? Come viene trattato? Forse l'argomento viene trattato soprattutto sotto il profilo della cronaca nera, mentre invece andrebbe affrontato, oggi si dice, a 360 gradi. Cioè il problema è innanzitutto culturale, dell'approccio dell'uomo e della donna e del modo di vivere diverso questo rapporto che per anni invece è stato cristallizzato in ruoli ben definiti. Non a caso oggi accadono certe cose quando i ruoli sono stati sottoposti a critica, sono stati, come posso dire, messi in discussione da un nuovo modo di vivere della donna che però non ha trovato altrettanto rispondenza in quello che poteva essere un nuovo modo di vivere il proprio ruolo da parte dell'uomo. Ecco, quindi due binari che avevano il loro percorso improvvisamente si vedono così distanti. Da questo punto di vista, quindi parlando proprio di ruoli, come è cambiato il ruolo all'interno della famiglia? Quindi diciamo proprio il confronto tra uomo e donna? Perché poi la maggior parte di queste violenze si consumano proprio dentro le mura domestiche, sembra. All'esterno, nell'ambito sociale, il ruolo sicuramente è cambiato perché oggi la donna lavora, si fa carico di contribuire a quello che è l'andamento familiare sotto il profilo economico, quindi diciamo ha disatteso completamente a quello che erano i vecchi canoni della donna che svolgeva il ruolo di madre e quindi di catalizzatore della famiglia. Il problema di fondo è che a questo tipo di evoluzione femminile non si è evoluto tutto il contesto familiare, per cui nell'ambito culturale, familiare e italiano ancora persistono certi vecchi canoni. Per cui la donna italiana, mediamente in Europa, è la donna che lavora di più, non solo fuori casa ma anche dentro casa. Perché nonostante nell'ambito della famiglia entrambi contribuiscono sotto il profilo economico, chi si fa carico maggiormente dell'andamento della casa e quindi dei lavori domestici, stiamo parlando naturalmente di famiglie normali, non di famiglie che si possono permettere la donna di servizio e quant'altro, è la donna che mediamente in casa lavora anche fino a sei ore dopo aver lavorato fuori casa. Se noi ci confrontiamo le nostre statistiche con le statistiche europee, l'Inghilterra, la Francia, la Svezia, vediamo che lì le donne mediamente in casa lavorano molto meno, perché i loro partner sono molto più collaborativi. Per questo dico che il problema di fondo è culturale. L'approccio dell'uomo italiano impregnato, ma anche della donna italiana impregnata di profonda cultura cattolica, perché è così che dobbiamo dire, in cui la donna viene vista sostanzialmente come la mamma, che quindi è colei che accudisce. Ancora manca, non è stato introiettato nella nostra struttura familiare, l'idea di condivisione. Cioè la situazione che vede un uomo e una donna condividere, non la donna che accudisce. L'accudimento è tipico della figura materna. La condivisione dovrebbe essere l'elemento cardine della nuova struttura familiare, che vede entrambi sullo stesso piano, entrambi ad affrontare gli stessi problemi dentro casa e fuori casa. Quasi come se qualcuno con i tempi fosse maturato e qualcun altro no. Ecco, e allora a questo punto, perché tante volte la casa, che dovrebbe essere il buon ritiro, il nido, si trasforma invece in una gabbia o peggio ancora in un luogo di delitti? Ma perché molto spesso nella donna c'è quasi, lo capisco, perché sono sensazioni che ho vissuto anch'io, soprattutto per donne che fanno dei lavori estremamente impegnativi, un forte senso di colpa perché sapendo di togliere molto alla famiglia, perché magari sei impegnato ai lavori complessi che ti portano fuori casa, c'è quasi questo senso di espiazione, quasi di meritarsi certe sofferenze. Mentre invece sarebbe necessario rendersi conto che bisogna, non voglio usare una parola forte, combattere, ma bisognerebbe proiettare le proprie forze cercando di coinvolgere molto di più i partner in quelli che sono non solo i problemi personali, ma i problemi della famiglia. Voglio fare un esempio, nella crescita dei figli, facciamo degli esempi concreti, nella crescita dei figli. C'è un po' la tendenza tipicamente italiana, culturale italiana, ad idealizzare la figura materna, quasi che cambiare un pannolino, dare un biberon sia una cosa che solo una mamma può fare e un figlio solo da una madre lo può avere. Una cosa così banale invece è necessario che lo faccia anche il partner, innanzitutto per responsabilizzarlo nei confronti di quello che è il suo rapporto col figlio e anche per iniziare quel rapporto di condivisione e quindi far sì che il concetto di accudimento sia condivisibile, non sia una cosa esclusiva della figura materna. Perché poi io voglio essere anche un po' critica, cioè dobbiamo anche un po' fuori dal coro. Se i nostri uomini sono così è perché le nostre mamme le hanno educati così. Cioè i nostri uomini purtroppo hanno davanti a loro una figura femminile che o risponde alla santificazione della Madonna, una filosofa sarda ci ha scritto anche un libro sull'argomento, quanto la Madonna abbia influenzato culturalmente la famiglia e quindi la figura femminile all'interno della cultura e della famiglia italiana. Quindi le mogli e le fidanzate che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero innanzitutto cercare di responsabilizzare, ma responsabilizzare vuol dire sin dal momento dell'educazione del proprio figlio avere un rapporto con il proprio figlio in cui la figura della madre non sia necessariamente una figura protettiva ma anche una figura educativa che era una volta il monopolio della figura maschile. Va bene? Una volta i ruoli perché erano così divisi. La madre accudiva, il padre educava. Oggi entrambi devono accudire ed entrambi devono educare. Il rapporto educativo tra madre e figlio fa sì che il figlio si trovi davanti non una figura sempre accogliente, ma al momento necessario anche una figura edificante. Questo per formare le coscienze nuove, ovvero quelle dei nostri figli, ma quando in casa ci troviamo invece un partner che già è stato formato, che cosa dobbiamo fare? Cioè il primo campanello d'allarme è tentare un percorso educativo, terapeutico? Come difenderci da un partner violento dopo aver riconosciuto che questo partner è realmente così? Perché tante donne non lo riconoscono fino a quando non si arriva a casi estremi. Ma ci sono dei campanelli di allarme, no? Prima? Ma i campanelli di allarme anche nella mia esperienza professionale ci sono sempre. Un uomo violento prima o poi trova il modo di esprimere questa violenza. Il problema è come viene recepita questa violenza. Cioè se c'è sempre quel senso materno, di comprensione che tu hai nei confronti di un figlio, per questo le dico che le reazioni anche in questo settore sono dettate molto dalla cultura che ci ha formato e ci portiamo dietro. Quando noi guardiamo al partner come se fosse un figlio da comprendere, per cui ha bevuto il bicchieretto di vino di più, poverino, forse è stato il bicchiere di vino, già sarebbe sbagliato comprenderlo in un figlio, perché il figlio che ha bevuto forse un sano ceffone non gli farebbe male, no? Nel caso di specie. Però quello che voglio dire è che nel momento in cui emerge una situazione violenta è importante essere fermi, fermissimi. Ci sono situazioni, ci sono limiti che non bisogna mai oltrepassare per rispetto di se stesse e per rispetto anche degli altri. Se si è fermi, il partner lo capisce, e forse anche il partner violento che magari lo ha fatto estemporaneamente o comunque è stato indotto da situazioni, qual è anche una situazione di eccitazione da stupefacenti oppure da alcol, difficilmente ripeterà una situazione o creerà una situazione simile davanti a una persona che ha una certa fermezza. Nel momento in cui ti trovi davanti una persona tendente, tra virgolette, alla comprensione oppure a sottovalutare, a decantare quella situazione, è chiaro che c'è una carica in più. Quindi la fermezza è fondamentale e soprattutto la dignità di se stesse perché così come non è accettabile la violenza nei confronti di alcun essere umano ha maggior ragione nei confronti di se stesse. Questo denota una grossa coscienza di sé, una grossa dignità e anche una grossa consapevolezza, anche io penso a quei bambini che assistono alla violenza del padre nei confronti della madre. Ma io dico se nulla vi può indurre a denunciare questa persona anche l'idea che i figli possano crescere in un simile clima non è assolutamente accettabile, almeno quella deve essere la spinta. E poi fare un'autocoscienza, il perché si accettano queste cose, cos'è che ci spinge, qual è la svalutazione di noi stesse che ci spinge ad accettare una simile situazione. E forse in questo caso un buon confronto declinato al femminile non è male perché spesso trovare una ragione dentro di sé senza alcun soccorso è più problematico. Direi che se le donne in questo senso facessero circuito e quindi chiudessero il cerchio, probabilmente questa autocoscienza che poi magari abbiamo ma che è veramente in fondo in angoli reconditi del nostro animo potrebbe venire fuori. Quindi con l'aiuto e la solidarietà declinata al femminile. Ma sicuramente questo è sempre stato, diciamo, non voglio dire un handicap ma un valore che nell'ambito femminile, tranne in una determinata cultura di cui ho fatto parte in un certo periodo, il femminismo eccetera eccetera la cultura della solidarietà femminile purtroppo non è molto diffusa. Per quanto debbo anche sottolineare che in molte situazioni di denuncia e di forza della donna, della forza della donna che ha trovato appunto la forza di denunciare, ci sono spesso delle amiche che hanno supportato e che sono state determinanti sia nell'accoglienza laddove non ci sia lo Stato con le sue strutture ad intervenire e anche nel dare la forza quando manca un supporto familiare alla base di queste donne. Ci sono state delle amiche, questo lo posso dire per esperienza professionale purtroppo devo dire che non è molto diffuso però ci sono anche questi casi. E iniziative come quella di stasera servono anche a creare questa coscienza se non la troviamo dentro il supporto femminile che è dentro le famiglie le nostre madri, le nostre sorelle, le nostre cugine cerchiamolo fuori in una catena solidale tra amiche. Grazie.